La torcia a LED P&E Adventure F650 è una delle più piccole torce a batteria. Misura solo 11.6 cm di lunghezza e 2.8 cm di diametro. Il peso di 126 grammi con batteria inclusa è un altro vantaggio per il quale viene scelta questa torcia. La P&E Adventure F650 ha un LED all'avanguardia con una potenza di 20W che rende un'intensità luminosa di 2000 lumen e ha una durata di 50.000 ore. Grazie all'indicatore di protezione all'acqua IPX6, la P&E Adventure F650 può essere utilizzata all'aperto in condizioni di polvere ed alta umidità. La torcia P&E Adventure F650 è realizzata in alluminio e ha una portata fino a 180 metri. La batteria ha gli ioni di litio da 2200 mAh tipo 18650, offre un uso continuo fino a 4 ore con un'intensità del 30% e può essere caricata dove vuoi, grazie al cavo USB-C USB incluso nella confezione. Grazie a tutti!